Geppi Ciao Mio pubblico ti saluta con entusiasmo, benvenuto Giuseppe, è bello averti qua nel ruolo inedito di te stesso e anzi a promuovere un film dove non reciti neanche parlo di Stranizia D'Amuri, di cui sei il regista Grazie Geppi, mi metto così che fa molto americano quelli che non capiscono molto bene la domanda Chi sono i due ragazzi di cui hai scelto di raccontare la storia e perché? Eccoli, allora di spalle con le braccia aperte Samuele Segreto e guida il motorino Gabriele Pizzurro al loro primo film Due ragazzi stupendi, bellissimi, poetici Cosa ti ha fatto scegliere di passare dall'altra parte della macchina da presa? Ma quando io ho scoperto un articolo di cronaca tantissimi anni fa che raccontava un fatto di cronaca di due ragazzi che nel 1980 furono trovati uccisi aggiungo perché si amavano e quindi quel loro amore aveva generato un odio Quell'articolo mi ha ispirato e ho raccontato questa storia romanzandola immaginando un'estate dell'82 tra questi due adolescenti E' vero che quando hai letto, quando hai trovato quest'articolo di cui ci parli ti sei sentito in qualche modo corresponsabile morale di questo delitto? Ma così, sì, mi è dispiaciuto non aver scoperto prima questa storia In fondo io nell'82 ero molto piccolo, ero un ragazzino non potevo saperlo in tempo reale quindi l'ho scoperto da grande e quindi ho fatto questa promessa a me stesso, a quei due ragazzi, alla mia terra un giorno di poterli raccontare Questo film parla di adolescenza, di omosessualità di un paese che la accetta a fatica dagli anni 80 ad oggi per fortuna è cambiato tutto Tu che dici? Non lo so, lo chiedo a te Io ho un sospetto che qualcosa sia rimasto simile a 30 anni fa Sì, qualcosa è rimasto simile a 30 anni fa in realtà perché sono tanti ragazzi che vengono discriminati e ti dico che la maggior parte delle volte questa discriminazione accade tra le quattro mura domestiche peraltro, noi raccontiamo anche le madri, i padri, le famiglie la comunità, un paese c'è un mondo intorno ai due ragazzi in stranizza da muri Io volevo fare un film storico, Geppi volevo fare un film sul come eravamo però ancora la cronaca ci racconta che è così ho scoperto una realtà stupenda a Milano e so che ce ne sono tante altre in Italia l'ho scoperta all'anteprima del film a Milano si chiama Casa Arcobaleno e accolgono i ragazzi omosessuali che non sono stati, come dire, accettati dalle loro famiglie Tu racconti di essere stato un adolescente introverso che in realtà tuo padre ti ha aiutato a superare la tua timidezza a proposito del sostegno della famiglia Diciamo che sì, è stato un superamento doloroso perché la scomparsa improvvisa di mio padre mi ha fatto crescere in fretta e mi ha costretto a crescere in fretta a passare dall'adolescenza all'essere un uomo che doveva trovare qualcosa da fare soprattutto Ascolta, mi ho letto di questa cosa della leccata del braccio con cui tua madre scopriva quando marinavi la scuola Ma è vero che tua madre ti leccava il braccio? Questa era una tecnologia avanzata dell'epoca quando non si andava a scuola Calcolo che di questi tempi già adesso, poco prima di Pasqua si facevano i bagni al mare il mare era fresco ma si facevano i bagni in sale e PAM e partiva uno schiaffone Si è andato molto spesso a marinare la scuola L'hai molto marinata? Tantissimo, lo dico, lo confesso tantissimo però dai, trasformiamo questa cosa in una cosa poetica perché io preferivo la storia viverla piuttosto che leggerla Una falla finita, ma chi ci crede? Comunque, ammirevole tentativo di giustificare la vela o come si chiama in Sicilia? Caliare Ah, Caliare, tu eri un grande caliatore Invece, il titolo del film è una canzone di Franco Battiato e anche altre sue canzoni fanno parte della colonna sonora Io ho letto del tuo incontro con lui che immagino per te incontrare il tuo mito è stato faticoso pensavi di dover parlare di cose complicate Invece, com'è andata? È andata quella sera e l'ho incontrato per caso su una spiaggia alle 5 e mezza del mattino Ma cosa ci facevi in una spiaggia? Eri a pesca? Cosa stavi fare? Caliavi? Caliavi ancora? Un po' di anni fa, insomma Un po' di anni fa No, non dormivo, faceva molto caldo Donna Lucata, Geppi, ti consiglio di andare a trovare questo posto stupendo Donna Lucata, avevo caldo, non dormivo Era un po' Antofa a caldo però la versione maschile, diciamo Dicevo a mia moglie Eleonora, fa caldo Vatti a fare una passeggiata Sono sceso in spiaggia e come me da lontano un puntino nero veniva in senso contrario quando si avvicina vedo pochi metri da me il mio idolo, il mio mito la mia colonna sonora dell'adolescenza Lui prosegue e io cerco di chiamarlo Maestro, scusi Lui si gira Mi stupisco del fatto che mi riconosce Beppe, ma che fai qua? Eh, non dormo Ma andiamo a casa, ti offro un caffè e poi stasera vogliamo stare insieme Non ti ha leccato un braccio, Giuseppe? No, no Ah, siete andati a cena? Avete parlato di filosofia, di arte contemporanea o di musica o di cosa? Grandissime minchiate Veramente Poetiche minchiate mi ha fatto morire da ridere tutta la sera Ce ne preferite un po' di tutti? È stato un grande È stato un grande Veramente Un grande Un grande proprio per questo Perché ci siamo divertiti E poi Non faccio il nome del ristorante Magari lui si ricorda Però quella sera Lui, vegetariano Lo chef di quel ristorante Portava Portate Controportate Ma lui portava Maestro, Franco Questo è per te Quando lo chef si allontanava Franco Faceva mangiare tutto Al suo vicino di posto Quando lo chef ritornava Allora Buonissime Ascolta Ti volevo chiedere Che rapporto hai con le fake news? Perché io ho letto Che tu quando vai in albergo Prima di andare via Rifai il letto Non può essere vero Non puoi arrivare a questo livello di ossessione No È vero Cioè Do una sistematina Geppi Lo metto a posto Faccio così Il cuscino deve essere ben tirato Metto a posto Le ciabattine Le cose E butto tutto Un po' come i militari Prima di andare via dall'albergo Il cubo no Ma Non so perché Lo devo rifare Lo devo rifare Ma anche a casa tua Sei così prezioso? Sì molto Cioè prezioso per me stesso Per gli altri sono Si definisci un siciliano Che secondo me a volte La lingua siciliana Può dove le altre non possono No Questo è pesante Cioè Un rompe Cabasisi Cucchioni Cucchioni Sono una donna che viaggia Oggi qua Domani là Sì ma certo Giuseppe tu sei un attore Amatissimo Di grande forza artistica Questa era Anche tu ragazza Sei un'attrice amatissima Sappilo Chi te l'ha detto? Il ristoratore che porta le portate? No te lo dico io Che sei una grande attrice Un giorno faremo qualcosa insieme Quando vuoi E rifaremo il letto poi dopo Tranquillizziamo tutti quanti E' un lupo Grazie Giuseppe Fiorello In bocca al lupo Per la tua avventura da regista Grazie Grazie Giuseppe Grazie Grazie